Io sto facendo un'altra, non lo so due, adesso ho 50 minuti grazie di questo bordo. E poi le cose, dove non mi alisco, mi alisco, me ne allo so, mi danno 20 punti, e noi lo ho messo, le hanno dato 200 punti, mi danno grazie e 40 punti. Il 340 è un po' di rinforzamento, ma non è un po' di rinforzamento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.